Un bilancio più che positivo, quello del Pinewood Festival che ha animato il weekend a Coppito a Murata Gigotti. Impeccabile l'organizzazione curata dall'associazione Coppito Cuore e Anima con il patrocinio del Comune dell'Aquila. Successo di pubblico per tutte le iniziative proposte e per tutte le serate. Un'area attrezzata con gonfiabili per i bambini, animazione, street food, zucchero filato e popcorn per i più piccini. Musica dal vivo con tantissimi gruppi che sul palco si sono alternati, stand per tutti i gusti e poi la novità. Una piattaforma per lanci da 70 metri con bungee jumping ricavato per l'AERC, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro. La Croce Rossa italiana ha ospitato anche all'interno dei suoi spazi delegazioni di forze dell'ordine e forze armate. Ci sono stati tanti momenti di conoscenza e approfondimento con simulazioni effettuate direttamente sul campo. Tante le persone che hanno assistito a questa parte di festa davvero molto interessante. Dimostrazione alle quali hanno preso parte il Soccorso Alpino della Finanza, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, i soccorritori del nono reggimento alpini che operano sulle piste. Spazio anche ai bambini con una bella e simpatica sfilata per loro. Il programma ha accontentato insomma grandi e piccini. Il successo è stato davvero notevole. Una proposta bella, azzeccata e apprezzata dal pubblico che non è voluto mancare. Stiamo facendo una croce.